31 marzo 1934. Nasce a Gorizia il premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia. Interessato fin da giovanissimo alle idee scientifiche, elettriche e meccaniche, Rubbia si trasferisce in America nel 1958 per ampliare le proprie conoscenze universitarie dopo la laurea alla normale di Pisa. Tornato in Europa, attratto dalla nuova organizzazione per la ricerca nucleare, il CERN, Rubbia si occupa di ricerche sulle particelle elementari e nel 1983 scopre tre bosoni vettoriali responsabili dell'interazione debole. Per queste scoperte nel 1984 riceve il premio Nobel per la fisica insieme all'olandese Simon van der Mer. A me la fisica la considero un'avventura, la considero come un... come... immagino come un... i navigatori dei secoli passati immagino potevano considerare la scoperta di continenti nuovi.